Eccolo qua, Ole Cantano di origini russe, giocherà a Vibolo nella prossima stazione, primo tempo, salvato dall'Italia con Macchi che non passa, ci riprova Filippo Lanza a cercare le mani, il tocco c'è stato, lo vede il primo arbitro non ha stase e arriva il punto numero 8 per le nostre azzurri, a meno uno adesso della Repubblica Ceca. Dai Bardi e i Silvelli sono usciti gridando, balaso 6, fantastico, ha difeso una balla impossibile su un primo tempo e poi, e poi Pippo Lanza di nuovo nella sua migliore capacità di andare a toccare impercettibilmente l'ultima parte delle dita del muro, grande Pippo.